Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato al transito di Mercurio in Leone, segno per segno. Vi ricordo che sono sempre degli interattivi, però andremo a fare segno per segno. Vi ricordo di ascoltare per questo transito, come sempre, il vostro segno zodiacale, l'ascendente, dove si trova la luna al momento della nascita nel vostro tema natale e poi il segno dove si trova il pianeta Gioves, pianeta della fortuna, del lavoro, delle opportunità e dove si trova anche Venere, pianeta dell'amore, dei sentimenti, delle emozioni. Allora, vediamo già approssimativamente che cosa porta questo Mercurio in Leone. Mercurio in Leone dona una particolare predisposizione a parlare in modo intenso e di impatto, che può molto tornare utile nei contesti di comunicazione in pubblico. Ovviamente questo va sempre valutato alla luce del tema generale e nel suo complesso, ma in generale l'esuberanza comunicativa è una caratteristica comune agli individui con questo posizionamento. Questo Mercurio promuove la tendenza a svolgere piani particolarmente ambiziosi ed una difficoltà ad interagire in contesti o con persone ritenute mediocri. Allo stesso tempo dona una capacità di attrarre l'attenzione attraverso l'uso della parola ed una grande creatività verbale di pensiero. La persona con Mercurio in Leone dovrà da un lato sfruttare la propria capacità di coinvolgere gli altri con la propria energia ed entusiasmo e dall'altro moderare la propria tendenza ad essere talvolta eccessivamente teatrale nelle proprie manifestazioni comunicative e a non voler ascoltare chi sostiene posizioni contrarie alle proprie. L'intelligenza di chi ha Mercurio in questo segno di fuoco è basata sulla capacità di ottenere con molta rapidità un quadro d'insieme della situazione e della capacità di cogliere le opportunità. Questo Mercurio facilita l'individuazione della potenzialità offerte dal contesto e inoltre fa sì che il processo decisionale sia efficace nei momenti più che richiedono velocità e infatti poco influenzato da timore di rischi ed ostacoli e da tentennamenti. L'elemento che può bloccare la progettualità è piuttosto il timore di perdere la faccia, il lato ombre costituito dal fastidio provocato dal dedicare tempo alla raccolta di informazioni e all'analisi. Una certa sicurezza delle proprie idee ed una intolleranza per l'analisi di dettagli ritenuti troppo minimi per meritare attenzione spinge dal volta a decidere sull'onda dell'impazienza. Spesso Mercurio il leone è caratterizzato da un'elevata sensibilità alla critica che rende l'individuo più soggetto a vivere delusioni o offese dovute a commenti non lusinghieri o rifiuti. Il metodo di comunicare è vivace, intenso e a volte sopra le righe, il linguaggio è ricco, articolato e in alcuni casi potrebbe anche essere quasi barocco. Questo facilita il soggetto nell'esprimersi in modo creativo e nell'ottenere attenzione volta a rafforzare la propria identità. L'autostima è il prestigio personale. Potrebbe esserci un'inclinazione alla scrittura dal momento che per questo per Mercurio è più facile che per altri abbellire la narrazione del vero con la fantasia, la creatività e anche il desiderio di divertire. Mercurio il leone può favorire lo sviluppo di abilità di leadership attraverso la comunicazione proprio per la capacità di parlare alla pancia delle persone e trascinare. Questo è molto altro più vero quando si tratti di parlare a gruppi piuttosto che ai singoli individui. Per comunicare efficacemente con queste persone è opportuno prestare molta attenzione a ciò che dicono, farle sentire ascoltate, contraddire in modo rispettoso ed offrire visioni alternative sempre come ipotesi e mai come certezza per contrastare con la loro. Gli individui con Mercurio il leone dedicheranno più attenzione all'interlocutore quanto più la narrazione sarà arricchita di colore e situazioni fuori dall'ordinario. Questo è quello che porta in generale Mercurio il leone, cioè porta una loquacità e una creatività proprio nel parlare e anche nello scrivere. Adesso noi andremo a vedere cosa vi porterà a voi con le mie carte segno per segno. E andiamo ad iniziare. Allora, eccoci qua con gli amici del Sagittario. Vediamo pregi e difetti di questo passaggio di Mercurio in leone per gli amici del Sagittario. Vediamo un po' che cosa ci portano. Allora, andiamo a vedere che cosa ci porta. Sensuale gli amici del Sagittario. La sensualità non manca mai agli amici del Sagittario. Poi abbiamo perseverante, quando vi mettete in testa una cosa o è quella o è quella. E poi abbiamo ironico. Bene, sono tutte caratteristiche dei nostri amici del Sagittario. Sensuale, perseverante e ironico. Chi si ritrova in queste caratteristiche, in questi pregi più che altro, perché sono tutte e tre pregi, se così li vogliamo chiamare, o della persona con cui interagirete in un prossimo futuro o in questo periodo o della situazione che state vivendo. Magari avete un pensiero su una determinata persona che vi fa scaturire la sensualità. Ecco, siete molto ironici, avete molto successo con la vostra ironia, ma soprattutto siete perseveranti nel perseguire un obiettivo. Che può essere lavorativo, personale, non so, la conoscenza con una persona nuova, oppure magari il pensiero di abbandonare qualcosa di vecchio. Vediamo che cosa ci dice questa carta. Al presente, il passato è un ancora che ti inchioda, vecchi sensi di colpe al rimpianto. Il futuro è una costruzione ipotetica al cui pensiero puoi provare ansia. Esci da questa gabbia e concentrati sul presente, che è il tempo in cui la tua vita accade. Sfrutta la tua energia positiva e usala per fare pace con il tuo vissuto. Il futuro non ti farà più paura, sarà solo il tuo qui e ora di domani. Allora, amici del Sagittario, siamo ancora di magari a vecchi stereotipi del passato, a situazioni che abbiamo vissuto, che abbiamo paura che si ripetano. Abbiamo paura del futuro, ci provoca ansia, qualcosa che pensiamo possa accadere, ma non è detto che accada perché il futuro è sempre un punto interrogativo. E allora, cosa dobbiamo fare, amici del Sagittario? Dobbiamo essere sì perseveranti, ma dobbiamo essere perseveranti sul nostro obiettivo di oggi, su quello che vogliamo fare oggi, su quello che abbiamo intenzione di fare oggi. Ipoteticamente vi faccio un esempio, avete intenzione di chiamare una persona, voi pensate sì lo faccio domani. No, fatelo subito, questo è quello che vi dice questa carta, dovete vivere il presente. Se un qualcosa vi viene in mente adesso, fatelo adesso. Allora, vediamo un po', ingiustizia, usciamo tutte le carte e poi vediamo che cosa ci dicono. Vediamo questo mercurio in leone per il Sagittario. Gelosia, vediamo un po', paura. Benissimo. Allora, inganno, bene, bene, amici del Sagittario, si sta costruendo un bel quadretto. Vediamo cos'è uscito fuori, solitudine, litigio e peso. Amici del Sagittario. Allora, qui secondo me si sta per intravedere un pochino di periodo di burrasca per quanto riguarda le coppie. Perché qua mi parla di gelosia, inganno, litigi. Un qualcosa secondo me che voi vi portate dietro da tempo. Vi portate dietro da tempo. Qui secondo me c'è una gelosia ingiusta che vi viene applicata e che non è che vi fa paura. Perché voi, essendo un segno di fuoco, difficilmente avete paura. Però è come se questa paura io la vedo più come una forma di stanchezza. E qui mi porta amici del Sagittario che questo passaggio di mercurio in leone vi porterà appunto a scatenare un litigio. E questo litigio è portato appunto da questo peso di questa gelosia ossessiva che vi viene perpetrata su di voi e che proprio vi ha stancato perché mi esce la carta del peso. Essendovi stancato di questa gelosia ingiusta che vi viene attribuita Cosa andrete a fare? Andrete perché poi vi viene, cioè qua c'è anche un'accusa di un inganno addirittura di un qualcosa di cui venite accusati. Perciò che cosa scaturisce questo mercurio in leone? Scaturisce un bel litigio che vi porta a preferire la solitudine più che stare in coppia. Mi raccomando agli amici del Sagittario fatemi sapere se vi risultano queste mie parole. Mi porta appunto un senso di peso che non siete più in grado di sopportare e soprattutto non volete più sopportare perché preferite la solitudine piuttosto che vivere una situazione così pesante. Allora vediamo che cosa ci dicono i nostri tarocchi degli angeli per mercurio e il leone per il sagittario. Vediamo un po'. Vediamo cosa ci dicono. Il 6 di azione e poi abbiamo il 5 di pensiero. Allora vediamo un po' che cosa ci dice il 6 di azione. Che magnifica esperienza! Il tuo progetto ha ottenuto un enorme successo e ti porta premi. promozione o altre forme di riconoscimento per i tuoi sforzi ben fatto. Se qualcuno è in grado di aiutarti e ti offre assistenza sappi che è mandato dal cielo quindi accettala. Qui c'è un trionfo però. Un trionfo che può essere a livello lavorativo magari siete riusciti a realizzare un vostro sogno. Poi abbiamo il 5 di pensiero. Il sentiero sembrava quello giusto ma ora hai incontrato un ostacolo. C'è una direzione migliore che alla fine ti renderà molto più felice. I cambiamenti sono necessari per riportarti in carreggiata. Evita le persone negative che ti prosciugano e portano drammi indesiderati nella tua vita. Allora qui c'è una situazione positiva e una situazione negativa. Amici del sagittario. Qui mi parla di una situazione sentimentale che secondo me è un po' al capolinea perché preferite la solitudine piuttosto che vivere in questa situazione di angoscia, di peso, di gelosia ingiustificata. Diciamo che mi porta a una situazione tossica e questa situazione tossica voi non la sopportate più. Non la sopportate più perciò avete proprio questo desiderio di stare da soli. Vedete, inseguire. Cercare l'attenzione, paura di essere abbandonati, cercare incalzare. Questo è quello che vi sta opprimendo. Cioè, secondo me, avete accanto una persona che con questa paura di essere abbandonati vi sta opprimendo proprio le emozioni. Non riuscite a sentirvi liberi e perciò penso che all'orizzonte ci sarà un qualche litigio, ma un qualche litigio che a voi più che altro non peserà più di tanto. Vedete, chiarezza, verità, forza, vittoria, rivelazioni. Avrete un qualcosa da dire che porta appunto a una verità che voi è tanto che vi portate dietro. Vedete la libellula. La verità viene alla luce, adattamento, cambiamenti, trovare le risposte. Ci sono dei cambiamenti in atto per l'insegno del sagittario. Per molti di voi sarà a livello sentimentale, anche se c'è una riuscita anche a livello lavorativo che vi dà soddisfazione. Ma sicuramente questo peso voi non lo volete più avere addosso. Amici del sagittario, vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere e vi lascio giù i miei contatti. Io vi aspetto al prossimo video.